Ma cos'era? Wrestling, pugilato, rissa, veleni, non si è capito niente, non si è capito niente di questa partita, 13 minuti di recupero, pensate che l'arbitro ne aveva dati 9 ma poi ha dovuto prolungare a 13, non si è capito niente in questa partita. Allora, Manchester City, Atletico Madrid 2-0, passa il City che va in semifinale, Liverpool-Benfica 3-3, passa il Liverpool. Ovviamente ho visto Atletico City che era una partita un po' più stuzzicante, allora parto subito dalla fine, paradossalmente parto dalla fine perché ogni volta citiamo le squadre inglesi come emblema di sportività, però stasera quello che ho visto gli ultimi 10 minuti è un vero schifo, cioè il Manchester City ha fatto ostruzionismo, questa è una pratica schifosa, schifosa. Cioè, a partire da Foden che sta fuori al campo, si sarebbe fatto male e rotola in campo, si vede bene che guarda in campo e rotola verso il campo. Poi dopo portiere a terra, un quarto d'ora, poi Fernandinho a terra, cioè ma dai, dai, ma gli ultimi 10-15 minuti non si è giocato per niente e questo a me onestamente non piace, soprattutto se stiamo parlando di massimi livelli. Poi lo fanno tutti, e va bene, lo fanno tutti, ma al sottoscritto queste pratiche non piacciono. Nel calcio si vince anche così, va bene, ma a me continua non piacere. Se dobbiamo parlare della partita, allora, io perché ce l'ho con gli allenatori catenacciari? Per un semplice motivo. Perché se l'Atletico Madrid avesse giocato tutta la partita, come ha giocato l'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, la poteva vincere. L'Atletico, nell'ultimo quarto d'ora, ha creato più palle e gol che nei restanti 75 minuti di stasera, è in 90 dell'andata. È in 90 dell'andata, ha pensato solo a difendersi. E vabbè, ti posso capire, fuori casa contro il City ci può stare, ma stasera sei 1-0 sotto nel punteggio, ma parti subito per vincere la partita. Invece il primo tempo è stata una pietà, una pietà, zero occasioni, zero azioni, zero tiri in porta da una parte e dall'altra. Secondo tempo, diciamo, pressoché uguale. Per gli ultimi 15 minuti, l'Atletico ha avuto 2-3 occasioni per poter segnare. Una di Cugna, che ha salvato Stones. All'ultimo, Correa, che stava per fare gol e che ha avuto una bella occasione. Pure il tiro a giro di De Paul, che è uscito di poco. Quindi, l'Atletico, comunque, non è l'ultima delle squadre. È una squadra forte. Cioè, da tanti anni naviga tra le top d'Europa. E per me questa partita, almeno al ritorno, se la poteva giocare benissimo per vincere dal primo minuto. Invece, insomma, su quattro tempi, praticamente tre tempi, li hai giocati sulla difensiva. E così non va bene. Così non va bene. Vedi, alla fine hai pensato a difendere Simeone. La qualificazione? L'hai persa lo stesso. L'hai persa in maniera dignitosa. Però hai perso. Negli annali, negli annali resta chi vince. Non è che resta il fatto che sei uscito in maniera dignitosa. Conta passare il turno. Conta poi alzare la coppa. E questo è quello che io voglio trasmettere. E voglio, capito, ecco, trasmettere il fatto che gli allenatori catenacciari, se allenano grandi squadre, devono fornire un certo tipo di apporto, un certo tipo di calcio. Cosa che, purtroppo, non si è visto. Non si è visto da parte dell'Atletico Madrid. Devo dire che anche il City mi ha deluso. Nel senso che, ok, la partita è andata dominata. Però stasera, ecco, mi aspettavo qualcosa in più dal Manchester City. Io, onestamente, non ricordo una palla goal del City questa sera. E, sinceramente, vedere il City, con tutti quei calciatori, che non crea un'azione da goal, è veramente... Cioè, non so quante volte può capitare. Quindi, di questo diamo merito all'Atletico Madrid. Però, si vede che Guardiola, insomma, è andato lì a fare una partita più di gestione. Anche se, con un goal di vantaggio, non è che ti puoi permettere di fare questa grande gestione. C'è anche da dire che, quando vai a giocare in quello stadio, contro la squadra di Simeone, che ci mette sempre tanta grinta, tanta gara, è difficile giocare a Luanda Metropolitano, diciamo, ci sta andare in difficoltà. Ma ho visto il City in grande difficoltà. Non perché abbia subito chissà cosa, ma proprio per la difficoltà di creare palla. Vedevo i giocatori dell'Atletico sempre primi sulla palla. E dobbiamo dire che i tifosi dell'Atletico sono veramente il dodicesimo uomo in campo dei Colcioneros. Veramente danno un apporto strepitoso. Veramente strepitoso. Però, alla fine, 0-0, passa il City. Decide il goal di Kevin De Bruyne all'andata. Una gran bella azione finalizzata dal Belga. E quindi, in definitiva, passa la squadra più forte. Questo lo possiamo dire senza dubbio. Dall'altro lato, un 3-3 che premia il Liverpool in virtù della vittoria d'andata a Lisbona. E quindi, in semifinale, sarà Spagna contro Inghilterra. Da una parte avremo Liverpool-Villareal. Dall'altra parte, Manchester City-Real Madrid. Quindi, potremmo vivere la famosa finale che vi ho preannunciato. Manchester City-Liverpool. Praticamente, le due squadre che si contendono la Premier League potrebbero poi contendersi anche la Champions League. E badate bene. A questo punto della Champions, nulla è dato per scontato. Non pensate che il Liverpool passeggi col Villareal. Perché, dopo quello che è successo al Bayern Monaco e prima ancora alla Juventus, il Villareal non è assolutamente da sottovalutare. Dobbiamo capire, dovete capire, che se una squadra arriva fino alla semifinale, scarsa non è. Poi, il Villareal farà un gioco difensivo, farà una grande organizzazione di gruppo e va bene. E il loro stile di gioco, che fino a questo momento li ha premiati. Poi, è chiaro che se dobbiamo fare un pronostico, il Liverpool sulla carta è più forte del favorito. Però, quello che dice la carta, a volte, non coincide con quello che dice il campo. Quindi, occhio, occhio, occhio malocchio. Comunque, ragazzi miei, io vi lascio con la buonanotte, lasciate un like e gentilmente vi ricordo di iscrivervi a questo canale perché il prossimo obiettivo è quello dei 2000 iscritti. Stiamo andando alla grande, siamo quasi a 1700 iscritti in due giorni. Veramente un record per il sottoscritto. Però, dai, andiamo avanti con le iscrizioni. Video tutti i giorni. Il prossimo obiettivo è 2000 iscritti, quindi aiutatemi perché soltanto con il vostro aiuto posso tornare, insomma, ai numeri di prima. Ma comunque siamo sulla buona strada e sono veramente soddisfatto di questo. E vi ringrazio di cuore perché comunque non era scontato. Assolutamente non era scontato. Comunque, ragazzi miei, buonanotte. Ci vediamo domani perché domani c'è un'altra grande serata di calcio con l'Atalanta che giocherà contro il Lipsia alle 18.45. Quindi ci sentiremo per il post partita dell'Atalanta. E domani assolutamente forza Dea perché l'Atalanta, insieme alla Roma, sono le uniche squadre che ci rappresentano in Europa. Non me ne vogliano i romanisti ma alla Conference League do il peso che merita mentre l'Atalanta, giocandosi l'Europa League, veramente la sosserrò con tutto il cuore anche perché sono un ammiratore dell'Atalanta, sono un sostenitore a livello europeo dell'Atalanta perché a me piacciono quelle squadre che portano qualcosa di nuovo, un vento di cambiamento, un'innovazione. Ebbene sì, l'Atalanta la vedo come una squadra che in questi cinque anni con il lavoro, la programmazione e la progettazione abbia veramente portato qualcosa di bello al calcio e al calcio italiano. Quindi domani assolutamente sosteniamo la Dea. Un saluto a tutti, appuntamento a domani, ciao!